ti scalda i muscoli passo del maurin con le maurin quindi puoi immaginarti due da due e quattro aspettaci grandi vuoi o? stavo giando ciao ciccio fagli un po' la ripresa posteriore della badile automatico leggero baionetta ma anche al badile come si chiama? pal pal vedi l'unica pinetta che c'è? sarà brutto questo qua? sarà brutto questo qua? carlo c'è carlo c'è sempre telecamera numero uno c'è palese un po' di brio si si ci sono pennellatore io non vado ragazzi vado a piedi no non filmate eh no non filmiamo guarda dove sei devi andare lì a fare la foto carlo c'è la cucinella tirate l'invasione grazie l'invasione di cucineggio bravo genio bravo genio bravo genio bravo genio bravo genio ma dove siamo qua? guarda qua guarda qua guarda qua che roba fantastico sei sbucato come un cerbiatto ho sganciato le curve e le contro curve ma dove sei qua?